Nell'ambito del progetto YouthBank è particolarmente importante per i ragazzi progettisti comprendere il significato e le modalità della raccolta fondi. La regola numero uno del fundraising è chiedere. Luciano Zanin, già presidente dell'associazione italiana Fundraiser, si è reso disponibile a spiegare ai ragazzi che proporranno un proprio progetto alla YouthBank come muoversi per raccogliere i fondi necessari. Il bando prevede che si raccolta almeno il 10% del contributo messo a disposizione della YouthBank. Perché? Per due ragioni fondamentali. Per responsabilizzare in modo concreto i ragazzi e per verificare che il progetto sia veramente sentito dalla comunità. Nelle edizioni passate è stato un problema raggiungere questo obiettivo? No, bisogna chiedere infatti che nel caso in cui il progetto richiedesse 5.000 euro, allora i giovani progettisti dovrebbero raccogliere 500 euro. Quindi si tratta comunque di una cifra contenuta. Anzi, molto spesso è capitato che i giovani raccogliessero una cifra maggiore rispetto a quella richiesta. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.